Buongiorno e benvenuti nel mio spazio informativo. Oggi parlerò di sedentarietà. Cos'è la sedentarietà? Sedentarietà che non va confusa con sto seduto o con un atteggiamento di pigrizia, ma bensì trattasi di un atteggiamento, scusate la parola ripetuta, caratterizzato da un consumo metabolico inferiore ad un mezzo ora, in uno stato di veglia. Cosa sta a significare questa definizione? Allora, innanzitutto, cos'è un mezzo? Un mezzo è l'equivalente metabolico del consumo energetico, detta così in modo semplice. Va a definire quanta energia il metabolismo mette in gioco in relazione alla quantità di ossigeno che va ad ossidare per creare combustibile utile a creare energia in riferimento all'ora. Ebbene, a seconda dell'attività che si sta svolgendo, ovviamente, l'organismo ossiderà più o meno ossigeno, quindi richiederà più ossigeno da parte, richiederà di introdurre più ossigeno da parte del sistema cardiorespiratorio e con tutte le conseguenze dal punto di vista del dispendio, quindi poi energetico. Grosso modo, diciamo che un soggetto che pesa circa 70 chili va a consumare una quantità di 1,5 mezzo ora quando consuma circa 105-110 calorie ora, facendo poi i conti della serva. Ebbene, quindi, cosa ci dice la scienza? La scienza si dice che al di sotto dell'1,5 mezzo ora, un soggetto in uno stato di sveglia è da definirsi in uno stato di sedentarietà. Questa la dice lunga su cos'è la sedentarietà, perché la sedentarietà non è quindi altro che uno stato di veglia caratterizzato, come detto all'inizio, da un atteggiamento che porta l'organismo a consumare, quindi ossidare un certo quantitativo di ossigeno e sviluppare quindi un certo quantitativo di dispendio energetico al di sotto di quelle 105 calorie ora. La sedentarietà non è altro che è correlata allo stile di vita. Non è spesso un'azione voluta. Ormai le mansioni lavorative che impongono un certo carico fisico per poter essere espletate sono poche e la maggior parte delle mansioni lavorative sono di carattere sedentario, perché impongono che si sia seduti o che si stia camminando o che si stiano facendo altre cose, un consumo metabolico veramente basso. Si stima che la popolazione media e delle società occidentalizzate conduce uno stile di vita caratterizzato da un consumo metabolico di 0,75-0,80 mezz'ora, che è quasi la metà della soglia minima utile a passare da uno stile evitativo a quello sedentario. siamo al di sotto della metà. Cosa cambia da queste società alle vecchie società di carattere rurale? Quindi non prendiamo in merito il fatto che magari loro avevano altre problematiche, quindi ogni società ha le sue magagne, come dice il mio prof, e lasciamo lì com'è. Però facciamo un piccolo paragone. Rispetto a quelle che sono le società rurali, quelle dei nostri nonni, perché già quelli dei nostri genitori hanno visto una transizione dall'ambiente rurale all'ambiente occidentalizzato, nelle società rurali l'uomo medio conduceva uno stile di vita caratterizzato da circa 30 ore settimanali al di sopra dell'1,5 e mezza ora. Nelle società moderne questa situazione si è completamente ribaltata. Tenendo conto che una persona lavora mediamente dalle 6-8 ore e più al giorno, vuol dire che passa, se quel lavoro non è fare il contadino piuttosto che il manovale, passa una media di più di 30 ore settimanali a 0,75-0,80 a mezza ora. E questo cosa significa? Questo significa che ogni qualvolta noi giacciamo in quel contesto di sottodimensionamento metabolico, se così vogliamo dirlo, ho usato un termine solo per dare un'indicazione, l'organismo si dovrà adeguare a questa situazione, ma purtroppo lo farà in modo disfunzionale. Ne conseguiranno tutte quelle, tra virgolette, conseguenze dal punto di vista metabolico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista estetico, dal punto di vista della composizione corporea, dal punto di vista del stressor system, dal punto di vista del sistema immunitario, che ovviamente si dimensioneranno in funzione di questo. Hai voglia tu poi a dire io ho il metabolismo basso o a cercare la dieta che miracolosamente farà dimagrire facendo un qualcosa ogni tanto, perché purtroppo nelle società occidentalizzate la stragrande maggioranza della popolazione giace ad un livello metabolico al di sotto della sufficienza. È difficile ragionare in termini di bilancio energetico quando ci si trova in questa situazione e non è sufficiente purtroppo, questo lo dico anche contro i miei interessi, attivarsi una, due volte, tre volte, quattro volte la settimana per cercare di risolvere la situazione, perché anche lo sportivo, se poi fa un lavoro di tipo sedentario, è da considerarsi una persona sedentaria, a meno che non si alleni 30 ore la settimana. Ma qui si apre un altro capitolo, cioè la differenza che passa tra attività fisica ed attività motoria. L'attività motoria, che è quella che fa lo sportivo qualche volta alla settimana o più volte alla settimana, non è altro che la ricerca di uno stato fisiologico migliore, piuttosto che il mantenimento di un certo stato fisiologico. Lo sport è al di sopra ancora dell'attività motoria, l'attività fisica non è altro invece che tutte quelle attività legate all'utilizzo del corpo umano, utili a sbrigare le faccende relative alla quotidianità per far sì che il corpo possa interagire con l'ambiente nel quale è immerso, che riescono a mantenere quel corpo ad uno stato metabolico al di sopra di 1,5 e mezzo ora. Capite bene che l'attività fisica in questo ambiente occidentalizzato ce n'è ben poca rispetto a quello che c'era nei contadini piuttosto che a una persona che vive in un ambiente rurale o selvaggio. Si abbia ben chiaro quindi questa differenza attività fisica, attività motoria e sport giacciono o sono a tre livelli ben diversi tra di loro, sia di impegno metabolico, quindi di mezzi consumati all'ora, sia di quantità di ore settimanali. L'attività fisica può essere svolta anche per 30-47 ore alla settimana, non induce un allenamento prestazionale dal punto di vista fisico, ma si basa su quel subbuglio di fondo fatto da quelle piccole azioni quotidiane che fanno fare dei piccoli sforzi fisici, salire le scale, il trasportare qualcosa che abbia un certo peso, il muovere continuamente il proprio corpo, tutte cose ormai assenti in questa società. Di questo argomento non se ne parla molto anche perché non se ne vuole sentir parlare e non si vuole sentir ragione a fronte del fatto che si continua a affermare che si ha il metabolismo lento, che non è altro che il risultato dell'adagguamento metabolico del proprio organismo, al proprio stile di vita e alla propria massa muscolare, o si continua in partenza a cercare quella diete che riescano in qualche modo a soddisfare le richieste dell'utente che si trova con un aspetto metabolico quasi azzerato e che però chiede ma come mai io non riesco a calare di peso? È ben difficile, a meno che tu non mangi come un canarino, e allora entrano in gioco tutte quelle proposte alchemiche dove si vanno a togliere i carboidrati, si va a togliere questo, si va a togliere quell'altro. Ecco, nulla da dire a riguardo, sarà il compito del nutrizionista adeguare l'igiene nutrizionale alla somatotipo, fenotipo e caratteristiche e richieste del soggetto. E c'è un altro video sul mio canale dove parlo su quale dieta scegliere, che non sarà casuale o è meglio quella senza carbidati perché fa la cala di peso. È ovvio, io non ce l'ho con le diete contro i carbidati, ci mancherebbe, in alcuni casi sono veramente utili, ma ce l'ho contro chi continua a dire questo funziona o l'altro funziona solo perché fa perdere peso o meno, purtroppo senza prendere in considerazione il fenotipo e il somatotipo del soggetto, un ectomorfo, un endomorfo, un mesomorfo, avranno necessità nutrizionali ben diverse tra di loro e purtroppo in uno stile di vita sedentario l'endomorfo, l'esomorfo e il mesomorfo svilupperanno adattamenti ben diversi tra di loro, su questo dobbiamo rendercene conto e rifletterci molto perché non se ne parla e non se ne vuole sentire parlare perché l'unica cosa di cui vogliamo sentire parlare è la dieta che farà perdere peso perché i grassi fanno male, perché i carbidati fanno male, no, quelli fanno bene, meglio le proteine e via dicendo, ecco, a riguardo, si rifletta un po' su questo aspetto perché la sedentarietà porterà, sta già portando e porterà sempre più a disfunzione metabolica nelle popolazioni con un innalzamento di quelle che sono le conseguenze relative alle malattie dal punto di vista della sfera metabolica, l'insulino resistenza, la pressione alta, l'aumento del colesterolo fino ad arrivare poi alla sindrome metabolica tutte conseguenze del purtroppo mancata attivazione dal punto di vista metabolico se volete ulteriori informazioni riguardo non vi resta che contattarmi e vi aspetto al prossimo video Grazie Grazie Grazie